Alla mostra del cinema di Venezia sfila sul red carpet anche Patti Bravo che si trova nella laguna anche per le riprese del documentario Rai sulla sua vita giunta a 75 anni. Icona di stile Nicoletta Strambelli, la ragazza del Piper ha avuto una vita movimentata sia dal punto di vista musicale che personale, con la sua voce inconfondibile, una lunga carriera che l'ha portata ad incontrare molti personaggi illustri ed è sempre stata la sua immagine rinnovata e apprezzata. Grazie per la visione!